Ben ritrovati amici rossoneri, come state? Scrivetemelo nei commenti, voglio sapere un po' come va, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like qui sotto, ogni volta che vince il Milan un bel like, spero che anche per voi sia doveroso, anche perché non vi costa nulla, ci aiutate a crescere, a raggiungere sempre più persone, iscrivetevi qui, mi raccomando, numerosissime. Una buonissima notizia, anzi due buonissime notizie e una pazza voce in questo video. Ci tengo però a dirvi che, insomma, questa mattina abbiamo pubblicato il video delle pagelle, in cui abbiamo analizzato, abbiamo dato anche dati interessanti, sorprendenti, mi fa sempre piacere se lo vedete, se non l'avete ancora visto, anche se l'avete visto in tanti. E poi ci tengo, invece, l'ho condiviso anche sulla community, che vediate il video, lo dico proprio a nome della community, per la community, il video di dopo pranzo, in cui, insomma, ci sono anche le mie emozioni. C'è la foto della panchina del Milan, che ieri un amico rossonero mi ha inviato sulla chat rossonera, io e anche altri abbiamo pubblicato, io ho pubblicato, tra l'altro, un ritaglio un po' più stretto, io ho visto che qualche giocatore tipo Krunic l'ha ripresa proprio con il ritaglio che abbiamo fatto noi, perché è circolata, l'avete vista, l'avete pubblicato in tanti. E anche su Milano abbiamo fatto un video in cui, secondo me, ricaviamo molto da quella foto, tante emozioni, ma anche, secondo il mio punto di vista, il mio sentimento, una lezione, una consapevolezza per il futuro. Quindi ci tengo, andate a vederlo, mi raccomando, e se lo vedete scrivete le vostre impressioni, in tanti l'avete visto, è un video che emoziona anche voi, quindi mi fa molto piacere, ci tengo. Ora andiamo subito alla prima buona notizia, anche se questo video si concentra più su un altro, è che dopo che era stato identificato dalla Juventus, il responsabile degli insulti a Magic Mike, è stato segnalato, individuato anche dalla Digos, con la Juventus che appunto vieterà l'ingresso in futuro di questo giocatore, di questo, scusate, tifoso, pseudo-tifoso, di questo Somaro, allo stadio, allo Juventus Stadium. La procura da FGC non aprirà comunque un fascicolo, con il Milan, che ho già pubblicato un altro video, con, insomma, il tentativo di combattere ulteriormente questo triste fenomeno del razzismo, di fronte al quale siamo tutti uniti, non solo milanisti della nostra community, ma ovviamente tutte le persone dotate di educazione, principi e buonsenso. L'altra buona notizia, ci sono diversi, intanto Ibra sta meglio, oggi ho lavorato ancora a parte, però il rientro è più vicino, credo che possa andare in panchina con l'Atletico e con l'Atalanta, o comunque con l'Atalanta al più tardi, in ogni caso dovremmo vederlo prima della sosta. Calabria sta meglio, così come Kier, no Spezia, ma si spera, e tra poco parliamo di questa pazzavoce, si spera di andare per la gara con l'Atletico Madrid, anche se gli altri stanno rispondendo molto bene, ieri il Milan ha schierato la formazione più giovane in Serie A della Serie A di questo campionato, caludo, insomma ragazzi, abbiamo tante tante risorse, i ragazzini terribili, e la notizia più bella riguarda Golivie Giroud. Oggi Sarimaker si ha pubblicato una foto sui suoi profili social, su Instagram, abbraccia appunto Giroud e scrive Io non mi ricordavo neanche che giocassi nel Milan, non in questo italiano, in un italiano da Belga, che è qui da pochi anni, il nostro attaccante è tornato in gruppo, si è allenato in gruppo, dopo qualche ora dal lavoro in gruppo non ci sono controindicazioni, e quindi domani dovrebbe prendere parte la rifinitura e essere convocato e convocabile per la gara di sabato ore 15. Sabato è già tra poco perché dopo domani, domani c'è già la rifinitura. Se così fosse sarebbe un'ottima notizia con Ribic che partirebbe sempre dal primo minuto, ma ci sarebbe ricambio Giroud oltre Pellegri con Giroud che poi potrebbe giocare titolare con Atletico Madrid e Atalanta. Quindi bene bene così, usiamo il condizionale, ripeto, però insomma le indicazioni sono molto positive, ha risposto bene all'allenamento, non ci sono controindicazioni post allenamento, e quindi se domani mattina si sveglia tutto ok, rifinitura con il gruppo e convocazione per Olivier Giroud, che abbiamo di fatto quasi sfiorato perché ha fatto solo due gare in campionato più lo spezzone a Liverpool, ed è una risorsa straordinaria per il nostro Milan. Dunque incrociamo le dita, che sia una buonanotte per Giroud e che domani lo si possa leggere tra i convocati per la gara con lo spezzio. Ricordiamo sabato alle ore 15. Domani quindi affrontiamo ovviamente il tutto, domani mattina vi daremo il buongiorno con Stile Milan di Filippo Galoppi. Siamo una grande community, ragazzi, veramente vi abbraccio dal primo all'ultimo. Ora andiamo su questa pazza voce, intanto è vero il mercato non finisce mai, lo sapete per definizione, non è che il mercato viene fatto solo a gennaio, solo da giugno a fine agosto, ma si parla, si chiacchera, si valuta, si monitora, si segue quel giocatore, soprattutto il Milan con il reparto scouting ovviamente ha diversi profili che vengono attenzionati. Ragionando insieme a voce alta c'è il discorso centrocampista con l'incognita che sì, Adri sta facendo molto bene, ne parleremo anche in un video, è sempre il discorso trequartista con Fevre che viene sempre attenzionato, ma ne parleremo. In difesa con l'ipotesi che appunto Romagnoli vada via a fine stagione, e anche e soprattutto per l'attacco dove, insomma l'anno prossimo, intanto dovremo valutare Pellegri, che ieri ha fatto poco, ha portato via una palla, però ha fatto il movimento giusto anche sul contropiede di Sardemakers, andrà verificato, Ibrahimov c'è l'anno prossimo, non sarà più probabilmente un giocatore del Milan, ci sarà Giroud, ma servirà un attaccante importante e magari qualche prospetto. Ebbene, la pazza voce di mercato circola da ieri, ora io ve la riporto come giusto che sia, la pesiamo insieme, la analizziamo, la vivisezioniamo e vi do anche un mio parere definitivo, con un'aggiunta. Ieri, come sapete, c'era Ivan Perisic in tribuna a vedere la partita del Milan e tutti si sono scatenati, chi con gogliardia, chi con un'analisi un po' più legata al mercato, insomma circola da ieri che la presenza non sia stata assolutamente casuale e disinteressata, ma è interessata non tanto per i fini del campionato, anche se lui poi ha detto che sono qui come scout per vedere i segreti del Milan, ma secondo alcuni spifferi il Milan attenzionerebbe Ivan Perisic, il cui contratto è scadenza proprio a giugno, quindi sarebbe un parametro zero. Ragionando in seguito a voce è alta, Perisic potrebbe interessare al Milan per caratteristiche tecniche, assolutamente sì, perché sarebbe perfetto per giocare a sinistra. È un parametro zero, quindi assolutamente sì, però ci sono controindicazioni, intanto l'ingaggio, perché comunque lui l'ultimo ingaggio vorrà prendere dei soldini, anche se, insomma, non so quanto mercato possa avere, se un club gli dà due anni a 4 milioni, si potrebbe fare, a quelle cifre il Milan potrebbe anche arrivare. La controindicazione è che lui però a febbraio farà 33 anni, è vero che il Milan ha preso Giroud che ne ha 35, ha Ibra che neanche di più, però, insomma, da manifesto programmatico le eccezioni sono poche. Potrebbe essere un'eccezione sì, dall'altra parte dico che in quel ruolo il Milan ha abbondanza. Ha Leao, che sta facendo una stagione davvero molto importante, e ha anche il soldato Rebic, che sta facendo una stagione molto importante, anche se ultimamente sta giocando un po' più da numero 9. Quindi, prendiamola con le pinze e vediamo. Sicuramente il Milan, dopo l'afferra Celanoglu, che non rimpiange nessuno, spero, vedendo anche Brian Diaz, ma ne parleremo, segue i parametri zero e credo che possa seguire anche qualcosa in casa Inter. Io sapevo un po' più un discorso su Brozovic, sinceramente, però il discorso Brozovic inizia a avere parametri economici troppo elevati, nel senso che lui chiede all'Inter per rinnovare 6-7 milioni di euro, a quelle cifre il Milan comunque non è disposto ad arrivare, non c'è neanche il decreto crescita, quindi è stato forse più un sondaggio, non so se del Milan o del procuratore, un pur parler, che non è destinato ad andare fino in fondo. Monitoriamo Peric, pazza idea, ve la riporto. Ogni tanto le pazze idee si realizzano, prendiamola però con le pinze, mi raccomando. Vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi qui, un bel like per Giroud, iscrivetevi qui, ditemi la vostra su Peric, per me è... non lo so, a me piace Peric, però lì abbiamo abbondanza, servirà più un giocatore sulla destra, e in attesa di vedere anche Messias, vi rimando al video di prima, ci tengo, lo vediate, è un video di emozione, con significati profondi su questa stagione e le nostre ambizioni. Un abbraccio, forza a Milan oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao a tutti.